in un episodio ricco di rivelazioni e conflitti la rosa della vendetta ci offre un viaggio emozionale che ci lascerà con il fiato sospeso nella puntata di domenica settembre assistiamo a momenti di verità inaspettata e conseguenze drammatiche deva si trova sul filo del rasoio pronta a svelare il suo segreto più oscuro a gulcemal questa confessione potrebbe cambiare il corso delle loro vite per sempre ma il tempo è un lusso che deva non può permettersi parallelamente zafer la cui anima è tormentata da fantasmi del passato decide di non nascondere più la sua vera essenza dopo aver rivelato la sua natura tormentata mette in atto una vendetta spietata che scuote le fondamenta della loro comunità arman da parte sua si trova a confrontarsi con una verità devastante il responsabile della morte di suo padre è più vicino di quanto avesse mai immaginato scoprire che gulcemal un uomo di cui si fidava e l'assassino di suo padre lo porta a un punto di rottura deluso e furioso non solo punta il dito contro gulcemal ma ritiene sua madre altrettanto responsabile per le azioni che hanno portato alla morte di mustafa in un momento di ira incontenibile arman decide di tagliare i ponti con sua madre la quale disperata tenta in vano di fermarlo cercando di persuaderlo a non abbandonare l'unico legame familiare che gli rimane la scena si chiude con una madre in lacrime e un figlio irremovibile segnando un capitolo doloroso arman devastato e rifiutando di fare marcia indietro decide di non tornare da gulcemal la delusione è troppo profonda il tradimento troppo amaro la vendetta e il rancore che hanno pervaso la vita di madre e figlio ora li hanno resi estranei agli occhi di arman troppo distanti per essere considerati parte della sua vita deva al suo fianco condivide la delusione di arman anche lei è profondamente ferita da gulcemal che ha svelato la verità su zaffer mosso non da un senso di giustizia ma da un desiderio oscuro di vendetta ignorando completamente l'impatto devastante che le sue parole avrebbero avuto su arman unendosi nella loro delusione e dolore deva e arman decidono di allontanarsi insieme lasciando gulcemal e zaffer a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni mentre camminano via il legame tra loro si rafforza forgiato dalla condivisione di un tradimento così personale e profondo non sapendo dove dirigere la propria vita ora sradicata deva offre ospitalità ad arman accogliendolo nella sua casa questa decisione tuttavia non è vista di buon occhio da ibraim che esprime apertamente il suo dissenso il rifugio di arman sotto il tetto di deva li catapulta direttamente nel cuore della faida tra zaffer e gulcemal nonostante le tensioni e le minacce che alleggiano come nuvole tempestose deva e ipec si mostrano irremovibili nella loro decisione di proteggere arman intanto zaffer travolta da un mare di dolore viene affidata alle cure dei medici la sua anima tormentata trova conforto solo in ermulla l'unica persona capace di placare la tempesta interiore che la agita quando finalmente si riprende i suoi pensieri si concentrano su una vendetta contro gulcemal ermulla viene incaricato di una missione cruciale rintracciare quegli uomini che un tempo rapirono deva e che per motivi ignoti furono risparmiati da gulcemal parallelamente la narrazione si sposta su gulendam e mert immersi nei loro sogni di una famiglia futura la loro felicità sembra una bolla di serenità in un mondo altrimenti turbolento tuttavia vefa osservando la coppia da lontano è tormentato dai ricordi del passato e dai segreti che potrebbero distruggere quella felicità mert accorgendosi dello sguardo inquisitore di vefa comprende che è giunto il momento di affrontare il passato e le minacce che esso rappresenta decidendo di tenere nascoste a gulendam le verità che potrebbero frantumare il loro idillio mert abile manipolatore delle emozioni decide di sfruttare una situazione a suo vantaggio con astuzia simula il dolore per una ferita inesistente una ferita che afferma essere stata causata accidentalmente da vefa rivela a gulendam di aver subito un incidente nascondendoglielo per non causarle preoccupazioni tuttavia questa rivelazione sortisce l'effetto contrario gulendam si allarma immediatamente e confessa a mert che non potrebbe sopportare di perderlo era proprio questo l'intento di mert di mostrare a vefa le drammatiche conseguenze che la verità potrebbe avere su gulendam ancorando così il silenzio di vefa sotto una pesante coltre di colpa e paura nel contempo la tensione cresce quando gulce mal si reca a casa di deva il suo obiettivo è persuadere armand a tornare con lui a ripristinare i legami familiari spezzati ma armand ferito e deluso rifiuta categoricamente di ascoltarlo respingendolo con decisione anche deva affronta gulce mal nonostante le promesse passate di collaborazione professionale la recente condotta di gulce mal la spinge a riconsiderare la sua posizione la sua fiducia è stata tradita e deva si trova ora di fronte a un bivio morale continuare a lavorare con lui come aveva promesso o di staccarsi completamente in risposta ai suoi atti riprovevoli la sua decisione potrebbe segnare un punto di svolta nel loro rapporto ribadendo che alcune azioni hanno conseguenze irrevocabili deva nel suo tentativo di riscrivere le regole del gioco con gulce mal pone una condizione non negoziabile se lui desidera davvero collaborare con lei dovrà abbandonare definitivamente la violenza e le pratiche discutibili che hanno macchiato il suo passato vuole che lui si trasformi nell'uomo integro e buono che lei nel tempo ha imparato ad apprezzare e a cui ha voluto bene quest'ultimatum di deva non solo stabilisce un confine chiaro ma sottolinea anche il suo desiderio di costruire una partnership basata su valori condivisi e rispetto reciproco nel frattempo nonostante la messa in scena orchestrata da mert vefa rimane irremovibile nella sua decisione di rivelare la verità a gulce mal vefa turbato e confuso si confida con garahana svelandole il segreto mert e deva erano una volta fidanzati garahana tuttavia è già a conoscenza di questa informazione e la sua reazione è immediata e tesa lei lo esorta a mantenere il silenzio espone le catastrofiche conseguenze che la rivelazione potrebbe portare gulce mal potrebbe arrivare a uccidere mert in un impeto di rabbia gulendam non lo perdonerebbe mai spezzando così il loro profondo legame la verità se venisse a galla non solo distruggerebbe gulce mal segretamente innamorato di deva ma avrebbe anche ripercussioni devastanti sulla vita del figlio di gulendam il bambino potrebbe crescere senza un padre e con una madre emotivamente distrutta la decisione di vefa diventa così un peso morale immenso dove il silenzio può sembrare un atto di protezione tanto quanto di codardia proprio mentre vefa si trova sull'orlo di una confessione potenzialmente devastante gulce mal irrompe sulla scena le parole di garahana risuonano nella mente di vefa e nel momento cruciale decide di ingoiare la verità optando per la sicurezza si volta verso gulce mal le labbra tremanti quasi pronte a rivelare tutto ma alla fine dice solamente di non aver scoperto nulla su mert il giorno seguente gulce mal fa una mossa audace e inaspettata per riconquistare la fiducia di deva e riscattare la propria immagine convoca vefa e tutti i suoi uomini per un annuncio che cambierà per sempre il corso delle loro vite con voce ferma dichiara che il tempo di agire come galoppini e delinquenti è finito d'ora in poi la loro attività sarà completamente legale ogni uomo riceverà un impiego onesto e uno stipendio legittimo con una decisione che li coglie completamente di sorpresa ordina a tutti di abbandonare le vecchie abitudini criminali e di consegnare le pistole vefa e gli altri uomini restano interdetti confusi dal radicale cambiamento la maggior parte di loro non ha mai lavorato in un ufficio né possiede qualifiche formali per intraprendere una carriera legale tuttavia gulce mal si impegna a supportarli in questo nuovo cammino promettendo di aiutarli a integrarsi nell'azienda e a lasciarsi alle spalle la vita di criminalità le armi simboli tangibili di un passato criminale vengono consegnate una dopo l'altra da vefa e gli altri uomini e gulce mal le raccoglie accuratamente in una cassa come a sigillare la loro decisione di cambiare vita con le armi ora al sicuro gulce mal sente il peso di una promessa mantenuta e decide di condividere la sua svolta con deva digita un messaggio le dita tremano leggermente per l'emozione informandola dei passi concreti che ha intrapreso per purificare la sua esistenza alla lettura del messaggio deva è travolta da un'onda di gioia e speranza si affretta verso di lui ansiosa di vedere con i propri occhi la trasformazione di gulce mal prima di poter raggiungere gulce mal però deva deve affrontare un altro ostacolo zafer si dirige risoluta alla casa di zafer per riprendere arman ma ciò che trova è un conflitto inevitabile le due donne si confrontano duramente le parole di deva sono taglienti un chiaro ultimatum a zafer non deve mai più avvicinarsi a casa sua deva è ferma nel proteggere arman dal dolore e dall'odio che zafer potrebbe infliggergli arman stando alle parole di deva non ha alcuna intenzione di tornare con zafer il suo cuore è indurito dall'odio e dalla rabbia e rifiuta categoricamente ogni legame con lei zafer tuttavia non si lascia intimidire dalle parole di deva e rimane convinta che nonostante tutto arman tornerà da lei entro due giorni lei prevede che la fiducia cieca di deva in gulce mal si rivelerà una vulnerabilità e quando arman tornerà sarà deva a soffrire le maggiori conseguenze quando deva raggiunge la casa di gulce mal l'atmosfera è vibrante di un'accoglienza calorosa un caldo benvenuto che riflette il profondo cambiamento in atto nella vita di gulce mal tuttavia non tutti partecipano a questa festa di benvenuto gulendam e vefa mantengono una certa distanza marcando una tensione sottile deva ignara del disappunto crescente condivide entusiasta la notizia del regalo ricevuto da gulce mal il suo cavallo preferito un gesto di grande significato dato che il cavallo è notoriamente riservato e tenuto lontano persino dai membri più stretti della famiglia come gulendam la sorpresa di quest'ultima si trasforma presto in sgomento riflettendo non solo la sorpresa per il regalo ma anche l'incredulità che suo fratello abbia potuto compiere un gesto così personale e significativo nei confronti di deva l'angoscia di gulendam si intensifica quando apprende delle ulteriori rinunce di gulce mal ai suoi affari criminali preoccupata per le scelte radicali del fratello corre da lui temendo che queste decisioni possano non essere il frutto di una mente lucida sebbene sia felice che gulce mal abbia trovato in deva una persona da amare teme che le sue azioni impulsive possano portarlo alla rovina nel frattempo mert coglie l'occasione di parlare in privato con deva lei intuitivamente difensiva tenta di allontanarlo ma mert la blocca con urgenza rivela a deva che vefa ha scoperto del loro passato insieme mettendola così di fronte a una rivelazione inaspettata deva ascolta con disgusto mentre mert rivela di aver sfruttato i sentimenti di gulendam per convincere vefa a mantenere il segreto sul loro passato insieme nonostante mert stia cercando di proteggere la propria vita temendo ritorsioni da parte di gulce mal deva non può accettare il suo comportamento per lei le manipolazioni di mert sono inaccettabili una rivelazione che distrugge qualsiasi immagine residua che potesse avere di lui come persona semplicemente maldestra o innocua mentre questa rivelazione avvelena ulteriormente l'aria tra loro deva decide che non può tenere per sé ciò che sa è determinata a rivelare tutto a gulce mal la tensione tra lei e mert cresce fino a quando non sono sorpresi da gulendam che all'oscuro dei dettagli entra mentre discutono garahana notando l'intensità dello scontro interviene prontamente rimproverando mert per il suo comportamento insistente e problematico nei confronti di deva nel frattempo deva trova gulce mal che le mostra orgoglioso la cassa contenente le pistole consegnate dai suoi uomini questo gesto simbolizza la sua dedizione a lasciarsi alle spalle la vita criminale mantenendo la promessa fatta a deva colpita da questo segno tangibile di cambiamento deva si sente rinvigorita nella sua fiducia verso di lui gulce mal approfitta di questo momento di felicità per presentarle un contratto per la fondazione di una nuova azienda insieme proponendo di creare un marchio che rappresenti il loro nuovo inizio senza esitazione deva firma il contratto entusiasta all'idea di costruire qualcosa di positivo e duraturo con gulce mal l'euforia della firma del contratto è di breve durata per deva mentre cammina verso casa immersa nei suoi pensieri di un futuro luminoso con gulce mal un evento sconcertante la strappa brutalmente dalla sua riflessione senza preavviso viene rapita in pieno giorno in mezzo alla strada un atto audace e pericoloso che lascia il segno tuttavia il suo rapimento dura solo pochi minuti tanto per instillare paura quanto per inviare un messaggio chiaro viene rilasciata rapidamente e ad attenderla trova Zafer una presenza minacciosa e imponente Zafer le rivela freddamente di essere stata lei a orchestrare il rapimento il suo obiettivo è dimostrare a deva quanto sia vulnerabile nonostante la protezione di gulce mal e quanto poco possa fare quest'ultimo contro la vera potenza che Zafer rappresenta la minaccia è esplicita e carica di malvagità intesa a intimidire e sottomettere deva contrariamente alle aspettative di Zafer deva non mostra paura con un coraggio temprato da innumerevoli sfide affronta Zafer con parole dure e taglienti la accusa di essere una persona spregevole rinfacciandole non solo l'abbandono dei suoi figli ma anche i tentativi di mettere fine alla sua vita la fermezza di deva nel confrontarsi con Zafer dimostra la sua determinazione e la sua capacità di resistere alle minacce non importa quanto gravi esse possano essere deva nonostante la paura e l'incertezza rimane intransigente nella sua posizione rifiutando di lasciarsi intimidire o sottomettere dalla violenza e dal potere corrotto dopo l'intenso confronto con Zafer deva sfrutta l'occasione per sottolineare il cambiamento radicale di Gulcemal il quale ha deciso di abbandonare definitivamente il mondo criminale questa rivelazione è parte di un tentativo di distanziarsi dalle azioni spregievoli di Zafer che continua a guadagnare attraverso ricatti e violenze Zafer tuttavia interpreta la notizia diversamente per lei l'abbandono del crimine da parte di Gulcemal lo rende solo più vulnerabile con freddezza calcolatrice Zafer svela il vero motivo per cui ha voluto incontrare deva le impone un ultimatum se entro il giorno successivo deva non riuscirà a convincere harman a tornare a casa da Zafer lei rivelerà a Gulcemal la relazione passata tra deva e mert con questa minaccia Zafer intende non solo colpire deva ma anche seminare discordia e odio tra Gulcemal e deva stessa questa manipolazione mira a distruggere i legami affettivi e professionali che deva ha faticosamente costruito liberata da Zafer deva fa ritorno a casa dove deve affrontare un'altra sfida la rivelazione del suo nuovo impegno imprenditoriale con Gulcemal Ibrahim e Ipek apprendendo della fondazione dell'azienda con un uomo dal passato criminale reagiscono con sgomento e preoccupazione nonostante la rinascita professionale di Gulcemal il suo passato come assassino pesa pesantemente sulla percezione che gli altri hanno di lui Ibrahim in particolare è profondamente deluso dalla decisione di sua figlia la sua reazione è severa e intransigente se deva continuerà a lavorare con Gulcemal e a frequentarlo lui non la considererà più parte della famiglia il giorno successivo porta nuove sfide e rivelazioni Ermullah si avvicina a Zafer con notizie preoccupanti gli affari non vanno bene e per peggiorare le cose Gulcemal ha preso il controllo dell'ultimo affare di Zafer nonostante questo colpo all'attività criminale di Zafer lei sembra inaspettatamente disinteressata alla perdita la sua attenzione è focalizzata altrove interroga Ermullah preoccupata se abbia trovato gli uomini che avevano rapito Deva la conferma da parte di lui che li ha localizzati porta un lampo di soddisfazione nei suoi occhi questa caccia personale sembra essere la sua priorità assoluta ora nel frattempo a casa di Ibrahim l'atmosfera è tesa Ibrahim condivide con Ipek i suoi dubbi e le sue preoccupazioni riguardo al continuare ad ospitare Arman ritiene che sia troppo rischioso per loro continuare a sfidare Zafer tenendo con sé suo figlio teme che questa decisione possa alla fine rovinare le loro vite Ipek tuttavia è fermamente a favore di sostenere Arman questo dibattito carico di emozioni viene tuttavia origliato da Arman che si trova accidentalmente a sentire la conversazione le parole di Ibrahim lo colpiscono profondamente riesce a capire e a identificarsi con le preoccupazioni di Ibrahim ma questo lo pone di fronte a un dilemma morale da un lato non vuole essere un peso o una minaccia per la sicurezza di chi gli ha offerto rifugio e amicizia dall'altro lasciare significa affrontare i pericoli che lo attendono all'esterno da solo e senza il supporto di coloro che hanno dimostrato di tenere a lui l'atmosfera nella casa di Gulcemal è elettrica mentre si preparano a celebrare il lancio della loro nuova azienda Deva, determinata a fare chiarezza e a liberarsi dei segreti che pesano sulla sua coscienza cerca il momento opportuno per parlare con Gulcemal tuttavia Mert, già sospettoso delle intenzioni di Deva osserva attentamente ogni suo movimento temendo che le rivelazioni imminenti possano minare la sua posizione durante la festa Deva si presenta in maniera impeccabile attirando l'attenzione di tutti inclusa quella di Mert che, catturato dalla sua eleganza le fa un complimento sulla sua bellezza questo gesto non passa inosservato agli occhi di Gulendam che, ascoltando il commento, inizia a nutrire sospetti e gelosia intuendo un legame non completamente chiaro tra Mert e Deva il susseguirsi degli eventi alla festa sembra procedere senza intoppi fino a quando una donna del passato professionale di Deva non riconosce Mert come suo ex fidanzato questo incontro inaspettato rischia di far emergere la verità ma Deva prontamente nega ogni legame e riesce ad evitare che la situazione degeneri questo episodio, tuttavia, le fa capire quanto sia urgente parlare con Gulcemal prima che altri possano rivelare dettagli del suo passato che preferirebbe gestire personalmente conscia dell'importanza del momento Deva si avvicina a Gulcemal che, sorprendentemente, ha anche lui qualcosa di importante da dirle decidono di incontrarsi in privato poco prima dell'annuncio ufficiale dell'azienda creando un'atmosfera di aspettativa e tensione entrambi si rendono conto che la conversazione che stanno per avere potrebbe non solo influenzare la loro relazione personale ma anche il futuro della loro impresa comune questo confronto riservato offre a Deva la possibilità di mettere le carte in tavola sperando che la sincerità possa rafforzare il loro legame piuttosto che frantumarlo allo stesso tempo, Gulcemal, con le proprie rivelazioni potrebbe altrettanto influenzare la direzione della loro collaborazione e della loro intesa personale Zafer, venuta a sapere dell'evento, decide di intervenire pianificando di introdursi nella celebrazione per rovinare tutto e gettare ombre sul felice evento questo atto di ostilità è in linea con la sua natura vendicativa e con il desiderio di destabilizzare Gulcemal e Deva i quali si trovano lontano dal trambusto della festa per una conversazione intima nel frattempo, Mert, mosso dalla paura che Deva possa rivelare la loro precedente relazione decide di seguire i due e di origliare la loro conversazione si nasconde quindi in prossimità della stanza dove Gulcemal e Deva si sono appartati tendendo l'orecchio per catturare ogni frammento di dialogo la conversazione inizia con Gulcemal che rivela un dettaglio sorprendente del loro passato confessa a Deva di averla incontrata molto tempo fa quando lui era solo un ragazzino racconta di come avesse accompagnato Gulendama a una festa a casa di Zaffer durante la quale si era nascosto e di come solo Deva l'avesse notato e si fosse avvicinata a lui offrendogli una semplice costoletta di carne questo gesto di gentilezza aveva lasciato un'impressione duratura su di lui Deva, ascoltando, è sorpresa di scoprire che quel ragazzino era Gulcemal anche lei ricorda quell'incontro, un momento di innocenza e connessione che aveva dimenticato Gulcemal, volendo sottolineare il significato di quel gesto e il debito di gratitudine che sente di doverle si presenta con un vassoio coperto sollevando il coperchio rivela due costolette di carne proponendo di condividerle insieme come simbolo della loro rinnovata connessione e dell'intenzione di costruire su quelle fondamenta un futuro comune il momento di intimità e rivelazione tra Gulcemal e Deva viene bruscamente interrotto dall'arrivo di Gulendam che, sospettosa delle intenzioni di Mert e del motivo per cui abbia lasciato la festa senza un preavviso entra nella stanza dove si stanno svolgendo le confidenze Mert, colto da gelosia e ansia, può solo osservare mentre la situazione gli sfugge di mano Gulendam, con un senso di urgenza, richiama sia Gulcemal che Deva all'ordine del giorno è tempo di tornare alla festa per l'annuncio ufficiale della nascita della loro azienda Gulcemal si presenta davanti agli invitati per annunciare con orgoglio la fondazione dell'azienda passando poi la parola a Deva, la sua socia Deva sale sul palco, emozionata e leggermente sopraffatta dall'attenzione e dall'importanza del momento mentre cerca di raccogliere i suoi pensieri per iniziare il suo discorso una figura inaspettata irrompe nella sala Zafer decisa a rovinare la festa con un ingresso teatrale e una presenza che attira immediatamente l'attenzione di tutti Zafer inizia a biasimare gli ex collaboratori presenti accusa apertamente gli invitati di ipocrisia sottolineando come nessuno avesse problemi a fare affari con lei quando c'erano soldi da guadagnare ma ora, spinti dall'opportunità di un guadagno maggiore offerto da Gulcemal fingono di distaccarsi dal suo passato oscuro il suo discorso si intensifica quando accusa Gulcemal di aver ucciso suo marito svelando così un crimine che molti tra gli invitati ignoravano la tensione nella sala raggiunge il culmine mentre Zafer sfida apertamente tutti a considerare le loro scelte moralmente e eticamente ora che sono a conoscenza di questo crimine atroce la festa si trasforma in un campo minato di tensioni e rivelazioni con gli invitati costretti a confrontarsi con la realtà delle loro scelte e le implicazioni di continuare a fare affari con Gulcemal Deva, sul palco, trova il suo momento di gloria interrotto da una crisi che minaccia di distruggere non solo la festa ma anche il futuro della loro azienda appena nata la situazione si complica ulteriormente mentre Ibrahim cerca di contattare Deva per discutere delle sue preoccupazioni quando il suo tentativo di raggiungere sua figlia fallisce perché lei ha lasciato il cellulare in camera è Kanan a rispondere in modo ingenuo Kanan informa Ibrahim che Deva è impegnata nella festa per l'inaugurazione della nuova azienda con Gulcemal questa notizia non fa che aumentare il disappunto di Ibrahim che vede confermate le sue peggiori apprensioni riguardo alle scelte di sua figlia nel frattempo la situazione alla festa degenera rapidamente Zafer, con un discorso infiammato, continua a lanciare accuse contro tutti i presenti creando uno scenario di caos e disapprovazione nel bel mezzo di questo tumulto, Garana, cercando di evitare ulteriori confronti con Zafer decide di lasciare discretamente la festa Mert nota il comportamento furtivo di Garana trovandolo strano e sospetto ma rimane comunque affascinato e divertito dalle provocazioni di Zafer man mano che le accuse di Zafer si intensificano l'atmosfera diventa insopportabile per molti degli invitati che scelgono di abbandonare la festa anche Gulcemal, profondamente colpito e umiliato dalle rivelazioni di sua madre decide di andarsene alla fine, solo Zafer e Deva rimangono nella sala con un sorriso beffardo, Zafer si rivolge a Deva dicendole che non ha più bisogno del suo aiuto per convincere Armand a tornare a casa è convinta che, dopo gli eventi della serata, Armand deciderà di tornare da lei forse spinto dalla turbolenza e dall'instabilità che ormai circondano Deva e Gulcemal la festa che doveva segnare l'inizio trionfale della nuova impresa di Deva si è trasformata in un incubo tra le rivelazioni sconvolgenti e le accuse volatili di Zafer l'immagine pubblica della nuova azienda è stata compromessa lasciando Deva in uno stato di profonda preoccupazione per il futuro del suo progetto imprenditoriale Kanan le comunica che suo padre Ibrahim è al corrente della festa e delle sue recenti imprese commerciali con Gulcemal la tensione cresce quando Deva controlla il suo cellulare e trova un messaggio minaccioso da parte di suo padre Ibrahim è categorico se non tornerà a casa immediatamente verrà lui stesso a prenderla con la forza questo ultimatum mette Deva di fronte a una scelta con queste intense rivelazioni si conclude l'episodio di La Rosa della Vendetta questa puntata ha lasciato molti interrogativi aperti e promette ulteriori sviluppi emozionanti invito tutti voi a condividere nei commenti le vostre opinioni e teorie su come evolveranno gli eventi io sono Isabella come sempre vi mando un abbraccio a tutti e non perdete il prossimo video di anticipazioni dove esploreremo insieme le conseguenze di queste vicende e non perdete il prossimo video di anticipazioni